è veramente un'emozione presentare raffle parlare di raffle è una grande emozione perché è proprio una tecnica nata da tagliati per il successo l'abbiamo creata noi insieme ed è veramente con orgoglio che oggi sono qui a parlare di raffle raffle è un nuovo modo di vivere il colore è un modo che dall'addio alle masce tipiche che si vedono ai colori definiti dall'addio soprattutto allo stress da ricrescita fare raffle significa mezz'ora di lavoro non di più libera fantasia perché possiamo inserire qualsiasi colore all'interno di queste stagnole ma addirittura aprirle e rimettere altri colori per creare queste sfumature meravigliose da questa filosofia del recupero di ciò che abbiamo e del usarlo e del portarlo usato addirittura capi nuovi che sembreranno sempre più usati raffle è un po questo è un po il l'usato del capello fatto ad opera d'arte fatto in maniera personale ogni raffle è diverso ogni ogni colore completamente diverso non solo nel colore delle sfumature ma anche proprio nelle posizioni nel nel particolare di quello che voglio illuminare su un viso o far passare in osservato colgo l'occasione per salutarvi tutti tutti e mi auguro di vedervi ai corsi di raffle a Grazie a tutti.